Ciao a tutti e bentrovati nel mio canale Fantasticamente Inge, dove oggi, dopo aver esplorato le basi di Google Fogli e imparato a gestire e analizzare i dati, ci immergeremo nel cuore pulsante dei fogli di calcolo, ovvero nelle funzioni. Finalmente direi, perché è proprio qui che Google Fogli diventa veramente potente. Oggi, infatti, inizierà una mini serie di tutorial dedicati proprio alle funzioni più importanti. In questo tutorial in particolare cominceremo dalle funzioni aritmetiche di base, quindi somma, media, min e max. Funzioni che vi consentiranno di effettuare, alla fine, quelli che sono i calcoli fondamentali con estrema rapidità e soprattutto senza errori. Quindi, bando alle ciance, cominciamo subito. E cominciamo dalla funzione Somma. La funzione Somma è una delle più semplici e anche tra quelle più utilizzate in Google Fogli. Come ci suggerisce il nome, questa funzione ci permette di sommare automaticamente i numeri che si trovano in diverse celle, senza ovviamente dover fare conti a mano, ma senza neanche dover inserire il segno dell'operatore più, così come avevamo visto in uno dei tutorial introduttivi che trovate ovviamente fra quelli consigliati. Passiamo alla sintassi. La sintassi della funzione Somma è molto semplice. Vabbè, qui ho messo l'operatore uguale perché ovviamente tutte le funzioni, così come tutte le formule, iniziano sempre con il segno dell'uguale. Quindi l'ho messo per questo motivo perché va ovunque, non c'è nulla di diverso. Quindi andremo a mettere uguale, somma e poi dentro le parentesi tonde andremo a passare il valore 1, punto e virgola, valore 2, valore 3, valore 4, eccetera, eccetera. Quindi valore 1 sarà l'argomento obbligatorio, quindi ci deve essere per forza. E in questo caso rappresenta il primo numero o l'intervallo da sommare. Valore 2, così come si evince dalle parentesi quadre, è un argomento facoltativo o una serie di argomenti facoltativi che rappresentano tutti i successivi numeri o intervalli aggiuntivi da andare a sommare a valore 1. Come vedete qui dagli esempi, sarà possibile sommare i numeri semplicemente separati da un punto e virgola, quindi in questo caso avremo la somma di 5, 10 e 15 che fa 30. Possiamo andare a sommare i valori contenuti in diverse celle e quindi daremo in pasto in questo caso i riferimenti di cella separati da un punto e virgola, oppure ancora possiamo sommare un intervallo di celle, ad esempio qui in questo caso somma che va da 1 o da 5, quindi sostanzialmente andrà a sommare tutti i valori presenti nelle celle da a1 fino ad a5, quindi questo equivale ad a1 più a2 più a3 più a4 più a5. Ah, è una cosa, quando parlo di somma intendo somma algebrica, quindi andrà a sommare sia valori positivi sia valori negativi. A questo proposito vediamo subito un esempio pratico. Quindi immaginiamo di avere il bilancio dello scorso mese. In questo foglio di calcolo abbiamo registrato tutte le entrate e tutte le uscite del mese, quindi le entrate come vedete sono numeri positivi, quindi stipendio 1250, i regali di compleanno 250 euro, mentre le uscite sono indicate con numeri negativi e come vedete qui comprendono l'affitto, le bollette, le spese alimentari, le spese mediche e di svago. Per andare a calcolare il saldo finale, quindi capire se siamo riusciti a risparmiare qualcosa oppure se abbiamo speso più di quanto guadagnato, andremo a usare proprio la funzione somma. Quindi in questo caso è molto semplice perché trattandosi di un intero intervallo di celle, molto banalmente, andremo a scrivere qui uguale somma e poi aperta parentesi e vado direttamente a selezionare sul foglio con un clic sulla prima cella e poi trascinando fino all'ultimo, ecco vedete, b2b8, rilascio il clic del mouse, chiudo parentesi e premo invio, quindi 200. Scopriamo che siamo in attivo e non in passivo perché il risultato è 200 euro. Questo significa che considerando tutte le entrate e le uscite ci sono rimasti 200 euro. Passiamo ora alla funzione media. La funzione media è molto utile quando si vuole trovare il valore medio, quindi la media aritmetica, di un insieme di numeri. In poche parole ci dice qual è il numero che si trova nel mezzo di tutti i valori che passiamo. La sintassi della funzione media è molto semplice, molto simile a quella della funzione somma. Quindi avremo uguale, media, poi tra parentesi tonde, valore 1, punto e virgola, valore 2, punto e virgola, eccetera eccetera. Dove al solito valore 1 è il primo valore o l'intervallo da considerare per il calcolo del valore medio. E valore 2, che anche stavolta è facoltativo, rappresenta valori o intervalli aggiuntivi da andare a considerare per il calcolo del nostro valore medio. Una cosa che forse ho dimenticato di dire prima, ma comunque vale per tutte le funzioni che vedremo oggi, è che automaticamente queste funzioni si concentrano sui numeri e quindi ignorano le celle che contengono testo. E lo vediamo subito attraverso un esempio. In questo foglio di calcolo abbiamo il piano di studi di uno studente di ingegneria informatica che ad oggi ha superato 12 esami sul totale di 18. Vedete che nel caso di esame superato c'è direttamente il voto, in caso contrario invece c'è la scritta non superato. Ok, supponiamo che il nostro studente voglia calcolare la media dei voti degli esami già superati. Per farlo, ci andiamo a posizionare su questa cella in cui accanto c'è scritto media e andiamo a scrivere semplicemente uguale media, poi aperta parentesi e andiamo a passare tutto l'intervallo b2 b19, chiusa parentesi e premo invio. Vedete che il risultato è 25,5. Quindi sostanzialmente questa questa funzione che cosa fa? Somma automaticamente tutti i voti e poi divide il numero ottenuto per il numero di esami superati, ignorando le celle che contengono la scritta non superato. Quindi nonostante il salto, perché dopo aver preso tutti questi numeri ha dovuto considerare questo, quindi nonostante questo salto, siamo riusciti a dargli in pasto tutto l'intervallo senza ottenere alcun errore. E questo è un aspetto molto importante perché dà la possibilità al nostro studente di preparare il foglio di lavoro una volta per tutte e poi aggiornarlo di volta in volta con i voti presi all'esame, senza però andare a modificare la formula finale. Se infatti andrà a segnare un bel 30 qui nell'elettrotecnica, vedete che la media si aggiornerà, si alzerà a 25,8 e lo fa automaticamente. Benissimo. Andiamo avanti e lo facciamo con due funzioni che spiegherò insieme, ma giusto per comodità, ovvero la funzione min e la funzione max. Come è intuibile dai nomi, la funzione min ci permette di trovare il valore più basso in un insieme di numeri. La funzione max invece fa l'opposto, ci permette di trovare il valore più alto. La sintassi di entrambe è molto simile. Abbiamo infatti min oppure max di valore 1, che rappresenta il primo valore o l'intervallo da considerare per il calcolo del valore minimo oppure massimo, e valore 2, che è opzionale, rappresenta tutti i valori o gli intervalli aggiuntivi da considerare per calcolare il valore minimo o il valore massimo. Come vedete dagli esempi, possiamo dargli in pasto direttamente dei numeri, quindi in questo caso andrà a calcolare il minimo tra questi numeri oppure il massimo. possiamo dargli in pasto dei riferimenti di cella, degli intervalli oppure ancora una combinazione di queste cose. Anche per queste funzioni le celle oppure gli intervalli senza numeri vengono ignorati. Ciò vuol dire che, se torniamo nel nostro foglio di calcolo con il piano di studi, possiamo andare a calcolare qual è il voto più basso e qual è il voto più alto. Quindi nel primo caso andiamo a usare la funzione min, quindi avremo uguale, poi min e poi diamo in pasto il solito intervallo b2, b19. Quindi il voto più basso è 21. Alla stessa maniera andiamo a calcolare il voto più alto. Quindi max b2, b19. Il voto più alto è 30. Vi faccio notare che in entrambi i casi non ci siamo preoccupati di escludere le celle con contenuto testuale, cioè dove c'è scritto non superato, perché queste celle vengono automaticamente ignorate. Ora in questo caso era un foglio di lavoro molto semplice con numeri facilmente individuabili, però immaginate quanto queste funzioni risultino utili in foglio di lavoro molto complessi con centinaia e centinaia di righe. Quindi io direi che per oggi possa bastare, perché con le funzioni aritmetiche di base abbiamo gettato le fondamenta per lavorare in modo rapido e preciso su Google Fogli. Nel prossimo tutorial ci concentreremo su un altro gruppo fondamentale di funzioni, ovvero le funzioni di conteggio. Intanto però ricordatevi di esercitarvi e fatelo autonomamente oppure usando la guida che ho creato per voi con teoria ed esercitazioni guidate che potete richiedere scrivendomi attraverso il modulo contatti del mio sito che trovate linkato in descrizione. Poi se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto lasciate un like, un commento e condividetelo con amici, colleghi o chiunque possa trarne beneficio. Infine per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial iscrivetevi al canale. Ciao!